Siamo sicuramente perché è un evento molto importante di canale, è un evento a cui ci otteniamo particolarmente, vista la presenza dei nostri partner all'interno di questa manifestazione e per poter poi dare dei messaggi che per noi sono fondamentali, visto che le nostre tecnologie sono orientate totalmente a partner e reseller. Sicuramente uno dei tre principali sono le minacce che spesso vengono identificate come il crypto malware o il crypto locker, che permettono soprattutto ai nostri partner, vista la particolarità della nostra offerta, del nostro portfoglio, di iniziare a spostarsi verso l'erogazione di servizi di sicurezza e quindi non solo vendita di licenze, ma la possibilità di integrare il portfoglio all'interno dei loro servizi, i servizi dei partner. Sicuramente la possibilità per le nostre reseller, i nostri partner, di integrare, come dicevo prima, i prodotti all'interno del loro portfoglio. E quindi non vendere semplicemente licenze, ma vendere servizi a valori, diamo la possibilità di poter gestire l'intero parco clienti attraverso degli strumenti dedicati, abbiamo un prodotto che si chiama Partner Center, gratuito, che permette appunto ai nostri partner di governare il loro installato e ovviamente poi fornire servizi a supporto. Lo strumento che abbiamo costruito e fornito ai partner, uno strumento gratuito appunto al Partner Center, oggi è un strumento davvero unico perché permette al partner di gestire da un lato il ciclo di vita del cliente, fino ad arrivare addirittura alla generazione di trial, quindi in autonomia il partner può fornire licenze anche di test ai propri clienti. Dall'altro permette anche di gestire le licenze e quindi la possibilità ad esempio di recuperare le licenze non utilizzate senza sprecare il proprio investimento. Questo di nuovo è uno strumento ed è un passo in avanti rispetto ai classici produttori di tecnologia di sicurezza che pensano e sviluppano i prodotti per l'end user. Quando si chiude invece sviluppa i prodotti per i partner che permettono loro poi di erogare i servizi.